La ripartenza coinvolge anche i più piccoli. Da lunedì i centri estivi di tutta Italia hanno potuto riprendere le loro attività, un modo per dare ai bambini un po' di svago, in questo periodo caratterizzato da difficoltà e sacrifici. Anche Feltre non fa eccezione, le iniziative dell'asilo nido comunale Il Maggio Ciondolo riprenderanno in maniera graduale, nella modalità di centro estivo 0-3 anni, nel rispetto dei principi di sicurezza e prevenzione, e seguendo le linee guida con l'obiettivo di essere di supporto alle famiglie in questa delicata fase. Apriremo con un numero massimo appunto di 20 bambini, ovviamente daremo continuità ai gruppi preesistenti, diciamo ai gruppi di bambini già iscritti, quindi dai più grandi e via via verso i più piccoli in modo da concludere il ciclo educativo. L'obiettivo comunque appunto è ripartire, ripartire per poi speriamo tornare più presto alla normalità anche perché è un servizio veramente importante per le famiglie e già adesso ovviamente stanno arrivando tantissime chiamate anche per le iscrizioni del prossimo anno. Quindi sicuramente è un segnale di partenza e voglio ringraziare anzitutto il personale, in particolar modo la coordinatrice Nada Arnofi e tutte le educatrici dell'asilo nido perché è stato fatto veramente un lavoro molto molto significativo. L'ala storica del fabbricato sarà a breve interessata da lavori di copertura del tetto, nonché da lavori alla cucina, per questo motivo verrà utilizzata l'ala nuova del nido composta da quattro stanze di appartenenza con relativi bagni e stanze da letto. Per quanto riguarda i pranzi verranno portati pasti pronti fino a che la cucina non diverrà agibile o fino al termine del centro estivo. Tutte le pulizie verranno gestite dal personale comunale. Cambia di fatto il rapporto tra bambino ed educatore arrivando di fatto a 1-5 quindi con gruppi da 5 quando prima eravamo abituati a gruppi da 8 e questo cambia anche in una fruizione anche di prospettiva dell'asilo nido se non cambieranno ovviamente le norme e questo ci lascia un po' di preoccupazione perché capite che anche tutte le adeguamenti col personale non è cosa che si risolve generalmente in poco tempo oltre che per non parlare ovviamente del problema degli spazi.